Le più recenti informazioni sulla gravidanza emergono da un lungo colloquio rilasciato durante l'ultima puntata di Verissimo lo scorso 1 ottobre. Benvenuto su Febbre da Gossip! Prima di scoprire le ultime novità, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Durante quell'occasione, la celebre ex nuotatrice, nota come la Divina, ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua imminente maternità, senza però svelare il nome della bambina. Inizialmente prevista per la fine del 2023, durante le festività natalizie tra Natale e Capodanno, la nascita sembrerebbe ora imminente. In effetti, solo poche ore fa, la Pellegrini ha condiviso una serie di foto che mostrano chiaramente il pancione, accompagnato dal conto alla rovescia tic-tac-tic-tac. Secondo alcuni osservatori, questo gesto farebbe presupporre che la Divina sia pronta a dare alla luce la piccola nei prossimi giorni, diverse settimane prima della data inizialmente prevista. In tal caso, si potrebbe parlare di una gravidanza prematura. Resta solo da aspettare con ansia gli attesi aggiornamenti sul nascituro nelle prossime ore. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per sostenere Federica e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.